la breccia di portapia e la presa di roma il settembre del i bersaglieri conquistarono roma la breccia di portapia pose fine al potere temporale del papato e il regno d'italia conquistò roma per farla diventare la nuova capitale del regno d'italia avvenimento che si attuò nel 1871 i bersaglieri sconfissero gli zuavi pontifici cioè la milizia del pontefice grazie all'operato delle truppe di Vittorio Emanuele II i soldati italiani comandati dal generale Cadorna entrarono a Roma attraverso una breccia quindi un'apertura nelle mura della città all'altezza di portapia grazie a tutti